Bruno buongiorno! Buongiorno Armando! Senti siamo siamo qui in questo ambiente veramente spettacolare ma intanto ti presento Bruno Lottini ha un'esperienza enogastronomica anche internazionale. Sì è vero perché nel mio settore sono nato veramente all'estero più che in Italia perché sono andato via da giovane, avevo 18 anni dall'estero in Svizzera, Francia però molti anni in Inghilterra e lì mi sono fatto la mia esperienza nel settore della ristorazione. Poi sono tornato in Italia definitivamente nell'80 prendo il Bruttonatroccolo Galleria Nazionale che ebbe successo. Dopodiché sono passato alla vecchia ferriera per due anni, il proprietario l'aveva aperta e chiusa per problemi, l'ho riaperta io nell'88 e dopo l'ho ceduta nel 90 spostandomi al San Jacopo in via Crispi a Pistoia. Ecco dove lì hai fatto proprio il salto di qualità e l'hai fatto fare anche a Pistoia. Sì ho cercato di portare una professionalità che rispecchia un po' anche il mio modo di vedere nella ristorazione e ho avuto successo anche lì insomma la città mi ha premiato, anche le istituzioni mi hanno premiato, gli alberghi mi hanno premiato però nel 2004 ho deciso di raggiungere mio figlio qui al Frantoio avendolo acquistato per mio figlio e mia figlia nel 2000. Mia figlia ha deciso di fare un'altra cosa e mio figlio aveva bisogno di me, ho avuto delle offerte e anche a malincuore l'ho ceduto però il San Jacopo mi è rimasto ancora nel cuore. Però dovendo dare una mano a mio figlio sono venuto qui e da una enoteca con bruschette e stuzzichini abbiamo deciso di trasformarla in un vero ristorante ecco perché qui diciamo più che un'enoteca ristorante abbiamo una multi offerta consentita anche da come è ristrutturato il locale su una serie di sale e di livelli anche separati quindi riesci a fare una pizzeria di qualità, hai un ristorante di livello e hai una cantina fornita quindi il cliente che vuole abbinare magari il babbo che si mangia la bistecca, i figlioli che si mangiano la tradizionale pizza, vino e quant'altro qui abbiamo di tutto. Anche perché per esempio se uno vuole assaggiare più vini abbiamo sempre sulla carta dei vini di vini a bicchiere pertanto se uno vuole un vino di qualità a bicchiere ha questa possibilità di cambiare durante il pasto anche due o tre vini diversi senza dover acquistare la bottiglia insomma e questo questo aiuta il cliente anche a sapori diversi del piatto abbinati al vino. Per la pizzeria nel 2004 abbiamo deciso di aprirci anche la pizzeria abbiamo messo forno a legna pertanto a chi vuole una buona pizza oltre nel forno a legna abbiamo anche questa possibilità. Senti da un punto di vista culinario già al San Jacopo la tua offerta era di livello però su piatti toscani? Sì, sempre basata la mia cucina su piatti toscani e anche pesce, sempre una buona scelta di pesce, non larga perché preferiamo avere meno quantità però sempre fresca e in più pertanto la cucina toscana dallo stocca fissa, maccherone sull'anatra, a cacciagione in umido, a fiorentini anche, cotto nel forno a legna. Senti ad esempio oggi che è giovedì stasera che piatti proporresti ai tuoi ospiti? Per esempio primi abbiamo sempre i maccheroni a ragù di anatra però abbiamo anche del ragù di cacciagione, questa sera abbiamo del cinghiale in umido, in più faremo anche degli straccetti tipo maccheroncelli freschi con un ragù di pesce, abbiamo anche delle urate fresche stasera da fare sia all'isolana che alla griglia, poi abbiamo quasi sempre facciamo dei gamberoni anche alla senape che è un piatto che era importato dalla Francia, una volta lo faceva alla lampada e qui lo faccio in cuscina però ecco abbiamo queste cosette qui, in più una buona pizza. Ecco eventualmente anche una bistecca anche una bella fiorentina sulla brace c'è sempre. Senti io so che una volta facevi anche dei piatti come la trippa. Sì qui magari non la facciamo però facciamo un buon stoccafisso per esempio e ripeto la cacciagione facciamo delle volte del coniglio in bianco alle erbette, al finocchietto selvatico per esempio. Poi di stagione in stagione cambiamo anche i piatti, abbiamo quelli sul menù fissi però verrà il momento dei funghi porcini perciò gloria a funghi porcini ai piatti annessi a funghi porcini. Poi ogni due o tre mesi facciamo scene enogastronomiche che rendiamo la nostra clientela a un prezzo speciale per i nostri clienti che comunque si può trovare tramite online. Senti abbiamo parlato parecchio di enogastronomia, c'è un evento specifico che state lanciando tu e altri amici chef di Pistoia e si svolgerà nel weekend diciamo del 25 aprile, Toscana in bocca. Ecco la tua visione di questa di questa Toscana in bocca Bruno? La visione è che per rendere noto in tutta la Toscana specialmente che esiste una realtà Pistoia, Pistoia è una realtà gastronomica e enogastronomica che magari è meno conosciuta fuori dai nostri confini della provincia insomma, pertanto siamo parecchi colleghi ed io abbiamo sponsorizzato questa idea perché la nostra cucina insomma non sarà conosciuta a livello mondiale, però abbiamo delle basi insomma ottime, adesso c'è una ristorazione insomma di qualità, Pistoia, un'ampia scelta e vogliamo portare a far conoscere all'altra città il nostro nostro territorio con i nostri bravi cuochi insomma i nostri bravi gestori nelle ristorazioni. Ecco perché scusami un attimo se ti interrompo il vostro progetto è di offrire in quattro giorni a migliaia di persone i piatti di 40 ristoranti pistoiesi. Esatto, ognuno di noi proporrà due piatti perché dovremo insomma limitarci perché è impossibile in un ambito così grande di ristorazione proporre di più, abbiamo deciso di proporre due piatti nel mio caso di proporre lo stoccafisso al sugo che non lo fa più penso nessuno, noi continuiamo a farlo e le nostre pennette alla frantoiana che sono fatte a base di olive e di olio e abbiamo utilizzato per questi due piatti e altri core reghi ovviamente proporranno le loro specialità che poi potranno essere ritrovate nei ristoranti perché è inutile che mi metta a fare dei piatti se dopo non li ritrovi nel mio ristorante, ecco abbiamo deciso così. Perfetto, niente ci hai fatto venire l'accolina in bocca quindi sicuramente verremo a provare i tuoi piatti e quelli dei tuoi colleghi chef a Toscana in bocca, ma secondo me facciamo anche un salto prima qui all'enoteca a assaggiare, probabilmente non la pizza, qualcos'altro di un po' più toscano. Ciao Bruno e grazie. Ciao a voi, grazie.